è una mazzettata paf morto viene da andare più dentro sicurezza pa 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 morto un ospo capito? se invece lo trovi morto che non sai che è morto non lo sai perché no se io lo mazzo io un ospo allora se lo mazzo se lo trovo morto cioè non so se è morto che cazzo ne sai quindi sta all'infermo non è che può essere che è morto ma io non c'è che è morto e no non lo sai se io non gli passi sopra e poi gli passi sopra e poi gli passi sopra però scusa se lo mazzi tu è uguale cioè quando tu lo trovi non sai se è morto o è vivo dopo se è vivo lo mazzi però è uguale la paura deve venire comunque si perchè se tu vuoi dormire non lo sai quello che fa se è zomba o se sta fermo o se si fa ciacca è prevedibile che tu sta lì fermo tu puoi essere pure pensi di roba questo è morto poi non devi stare passati sopra e zomba no no non è zomba addosso una macchina unghera però se lo gioco che è zomba le viene un attimo male invece se tu qui cioè è morto poi se invece che tu pensi magari questo è vivo per cucini invece è morto salvo e gli passi sopra acciacciata fai porco Dio invece se lo mazzi tu è un grosso vivo fastito ma è grosso cammini a zombetta la mazzetta l'ho ammazzato e gli dai due o tre per sicurezza dopo si è sicuro che è morto dopo gli dai una guardia quel forte ingattivito dici porco Dio porco Dio se non è morto è morto per forza poi gli dai l'ordine per scacchiare l'ordine per sicurezza ecco gli dai che è morto è morto sai che è morto è morto